Sono Elisabeth Fasano e ricopro il ruolo di Chief Marketing Officer presso la ICAM. La ICAM è un'azienda a conduzione familiare con oltre 60 anni di storia, specializzata nella progettazione e produzione di magazzini automatici intelligenti. Realizziamo dei sistemi completamente automatizzati che aiutano i nostri clienti a gestire e organizzare i materiali in sicurezza ottimizzando lo spazio disponibile a magazzino. Abbiamo deciso quest'anno di sponsorizzare la sesta edizione della giornata del distributore in quanto la figura del distributore è una figura target della nostra offerta. Infatti siamo quotidianamente impegnati a individuare soluzioni che possano aiutare questa tipologia di clienti a rendere più efficienti i processi di picking in magazzino e quindi a controllare la qualità e i costi nella gestione dei materiali nel processo di allestimento degli ordini. Sono molto positive le impressioni della giornata perché abbiamo visto la partecipazione attiva di molti soci e la giornata sicuramente rappresenta e sta rappresentando un momento importante per fare networking guardando al futuro. Quindi per celebrare un passato lungo vent'anni che ha permesso agli associati di arrivare oggi e di guardare al futuro con un nuovo slancio.